Che le difficoltà non vi opprimano, che la violenza non vi abbatta, che il male non vi vinca. Sono parole di un padre, quelle che Papa Francesco ha rivolto ai giovani presenti in Piazza Bolivar al termine della visita nella cattedrale per omaggiare un'immagine di Nuestra Signora di Cichin Chirà. Ai presenti, gioiosi ed entusiasti come una giornata di primavera, il Pontefice ha chiesto di infiammare la società con l'amore di Cristo, di non temere in alcun modo il futuro perché nessuno potrà rubare loro la gioia di osare cose grandi. I giovani, a proseguito nel suo saluto, largamente a braccio, hanno una speciale sensibilità per riconoscere la sofferenza degli altri, insegnando a tutti a non abituarsi all'abbandono dell'altro. La capacità di comprendere che dietro un errore ci possono essere delle attenuanti, la capacità di promuovere una cultura dell'incontro e soprattutto hanno l'attitudine al perdono, l'unica strada per risanare i cuori. Che le vostre aspirazioni e progetti, ha concluso Papa Bergoglio, diano ossigeno alla Colombia e la riempiano di salutare utopie. Giovani, sognate, muovetevi, prendete dei rischi, guardate la vita con un sorriso nuovo, andate avanti e non abbiate paura.